La cucina di carapelle La cucina di carapelle Vengono serviti anche con la salvia Tra i secondi piatti domina la carne d'agnello E quella di maiale Sopravvive anche la tradizione di preparare i fichi fritti Che vengono accompagnati a piatti salati Quelli usati sono i fichi fioroni In dialetto locale, fillacchi Vale a dire i fichi primaverili Che vengono colti ancora verdi Bolliti in acqua E poi preparati in vari modi Ad esempio con le uova o con la pasta I tipici spaghetti alla chitarra Essi possono essere accompagnati anche con il formaggio o la ricotta Oppure preparati sott'olio In occasione della festa di San Pancrazio Venivano preparate le ferratelle Un dolce a base di uova, farina, zucchero e bucce di limone Fino agli anni 50 Erano molto diffusi i vigneti Con la prevalenza di Montepulciano e Malvasia Coltivati soprattutto nelle zone più basse del territorio Grazie a tutti